allora buongiorno ragazzi allora oggi è la vigilia oggi è 24 24 dicembre stasera è la notte di natale e niente sto sul terrasso di casa mia guardate oggi che giornata splendida che giornata splendida che si andranno a far surf sicuramente si andranno a fare il surf e guardate che giornata fa il vulcano guardate il vulcano come domina sul coraleco il vulcano vedete c'è una giornata veramente bella c'è un po' di vento ma meno male che c'è un po' di vento perché fa caldo vedete l'anzarote come siete bene l'anzarote l'almare l'isola dell'obos l'isola dei lupi vedete che stanno a costruire un po' finiranno e niente ragazzi guardate che è uno spettacolo guardate c'è un blu un blu intenso guardate che roba quanti gradi c'è stanno perché sinceramente non lo so comunque saranno penso 26 27 gradi credo più o meno quello so carzoccini e ciavattia diciamo non so assolutamente a voi che temperatura ci sta sono in italia però penso che non penso che sia così guarda che parte ok niente vi volevo fare gli auguri di buon natale a tutti i miei follower e quelli che mi seguono soprattutto guarda vi faccio soprattutto a quelli sapete a chi a quelli che mi seguono sulla scienza ecco quello è un natale un augurio speciale a quelli che mi seguono per la scienza che prima ero molto scettici e da quando ho portato sto format molti molti mi seguono e se sono anche ricreduti in tanti su quello che spiego e quello che dico ok e niente questo è il quanto auguri comunque a tutti quanti qui stanno antenne ormai l'antenna stanno ormai non c'è più nessuna antenne parabolica non le usa più nessuna perché tramite internet ormai infatti qui penso che nel condominio le dovranno buttare giù queste cazze di antenne può essere il prossimo anno e le toglieranno perché ormai forse c'è rimasto qualche matto che ancora non c'è internet c'è insomma televisione con internet ormai tutto con internet se fa regà perciò questo è il quanto comunque non c'è una nuvola a pagalla ma una nuvola nel raggio dei 100 chilometri si vede una nuvola addirittura ma se vede il marocco se vede il marocco qua vedo pure il marocco da qua vedo pure il marocco 100 chilometri guardate che bello capito? ma figata oggi è veramente limpidissima la giornata comunque ragazzi niente vi faccio tanti auguri di buone feste spero che passiate un buon Natale anche qui un buon Santo Stefano ma qua Santo Stefano non esiste Santo Stefano non c'è la festa di Santo Stefano come da noi ok perciò diciamo che il Natale si il Natale si sente poco qua diciamo che qui tra Capotanno e la Befana viene più festeggiata come ho detto stare qua diciamo il Natale non è che c'è quell'atmosfera come in Italia quando si facevano quei Natali che mi ricordo è diverso comunque questo è il quanto ok auguri a tutti lo voglio bene guardatemi sempre quando faccio la scienza il pallone lo sapete vabbè quello è però sulla scienza spero che mi seguiate un po' di più nel senso che magari arriva qualcuno in più ci saranno tanti belli argomenti che portiamo ok ciao ragazzi auguri a cuore